Alla vigilia dell'insediamento del Consiglio regionale di domani e che Rete8 seguirà in diretta dall'emiciclo, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha cominciato questa mattina alle 10.30 un giro di colloqui di ricognizione con tutti i neoassessori della sua squadra di governo. Una chiamata al rapporto per stabilire le priorità su cui, prima la Giunta e poi il Consiglio regionale, saranno chiamate a lavorare sin da subito. Il primo a entrare nella stanza al sesto piano di Palazzo Silone è stato Mauro Febbo, assessore al commercio e al turismo. Un lavoro che prosegue a oltranza con Emanuele Imprudente, Piero Fioretti, Nicoletta Veri e Nicola Campitelli. Obiettivo di Marsilio è avere un quadro definitivo e completo delle priorità su cui, come chiesto dalle leader della Lega Matteo Salvini, la Regione non deve perdere tempo. L'incontro credo che era doveroso e giusto perché una volta assegnate le deleghe ci siano delle scelte su cui dare priorità e su cui intervenire e quindi relazionare soprattutto al Presidente di ciò che si intende fare e soprattutto il Presidente dare le sue direttive per quanto riguarda il mio assessorato. Un assessorato che coinvolge l'industria, il commercio, l'artigianato, il turismo e la cultura, dove quindi ci sono materie che è una rigatura diretta sul sistema economico della nostra Regione. Chiaramente abbiamo fatto un discorso molto importante e molto attenzionato. La prima cosa che dobbiamo affrontare è il problema delle ZES che è un'opportunità che viene data ai territori, un'opportunità che è stata per un anno e mezzo disattesa dal governo uscente che prima aveva preso in giro gli abruzzesi parlando di un accordo con il Molise, ignorando che il Molise invece se n'era andato con la Puglia e poi all'ultimo istante è stata fatta una perimetrazione che sta scontentando tutti i territori. Grazie.